Buonasera a tutti. Bentornati al consueto appuntamento con Aspettando il Tg, che stasera guardate quanti gagliardi giovani ha qui nella propria cucina. Praticamente sono dei ragazzi pieni di belle speranze, ma anche molto bravi, che rappresentano le scuole alberghiere della Toscana. Li andremo a conoscere via via nel proseguo della trasmissione e sono sotto la guida del loro maestro dell'Associazione dei Cuochi di Siena. Sono coloro che oggi sono stati reclutati alla Leopolda per venire qui a ricordarvi che la professione del cuoco e dello chef non è una cosa casuale, ma significa studiare, lavorare e poi... Scusi, io li guido oggi come URCT, perché se no sembra... Loro sono di un'azienda, se no sembra brutta. Io sono di Siena, loro sono del Valdano, quindi sembra che... E ma che c'entra? La cucina vi unisce? Sì, infatti la regione ci unisce, però le province sono diverse. Assolutamente sì. Io oggi rappresento la regione per loro, quindi... Esattamente. Io l'ho detto di guida, nel senso che è stato un collega che è venuto fin qua, portando tutti questi ragazzi. Dicevo però... Ho sempre questa incommenza dei giovani, ho sempre a me rimandano questi giovani. Ma che devo fare? Come mai lei all'area del leader del capo? No, perché poi li porto a uscire, la sera ora quando andiamo via da qui gli ho promesso di portare a mangiare una pizza, quindi lo sono contenti, si divertono con me. Ah, quindi lei è un po' il jolly, diciamo, allegro, insomma. Sì, 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 quando la portarli a giro tocca a me questa incommenza. Oddio, guardate, stare con i giovani non c'è verso, alla fine fa bene al cuore, no? Anche se ogni tanto bisognerebbe tirare delle orecchie, soprattutto se arrivano magari non con tutta la posateria, ma noi, insomma, i nostri tettatori ci scuseranno. Non si può avere tutti, insomma. Dicevo, parliamo un attimo di cose serie, invece di scherzare sui giovani. Allora, il messaggio che vuole la Leopold attraverso questo ventottesimo congresso della Federazione Italiana Cuochi è un messaggio di... è un meglio, una puntualizzazione, no? Che cos'è il cuoco secondo quello che voi volete come messaggio far venire fuori? Allora, il cuoco che non è più che altro, non è quello che noi vediamo tutti i giorni in televisione, quello che fa tutti quei piatti elaborati, è anche quello, ma non è soltanto quello lì, perché a volte incanna vedere il cuoco che fa tutti quei ricami, non è quello lì. Il cuoco è quello che la mattina va lì, che va a fare la lista della spesa, che litiga con i fornitori, che litiga col personale ogni tanto, che litiga con tutti. E quello lì non è la persona che sta lì, che ricama, che fa un piatto al giorno, è uno che sta lì, che tutti i giorni si asciuga il sudore, che si sporca le mani, e che comunque prepara della buona roba, usando comunque degli ingredienti buoni, e avendo, insomma, non avvelenando le persone, ma purtroppo a volte capita qualche collega. Guardate lui, conoscendolo, è un tipo veramente molto sui genesi, troppo allegro. Allora, ricordiamo che la Leopolda vi aspetta, ora stasera sta chiudendo proprio, stasera vi aspetta tutto domani per potervi far assaggiare e degustare, se volete e siete appassionati di vini, 160 circa etichette, e quindi pensate un po' quanti. Poi potete anche assaggiare i cocktail, ed anche assistere alla preparazione di alcuni di questi, che è danni del Monaco, che è campione nazionale per sei anni di seguito, è campione del mondo per il cocktail Bracardi nel 2002, che preparerà appunto perché è lui che capitenerà tutti questi ragazzi e tutti questi nuovi barman, essendo l'associazione dell'Italian Barman Style insieme alla FIC, autrice, potremmo dire, e coautore di questo bellissimo congresso della Leopolda, che apre per la prima volta le porte anche a voi, telespettatori o a coloro che vorranno andare per assaggiare, mangiare, curiosare, eccetera. Per toccare con mano quello che noi facciamo. Esattamente. Cooking Show pazzesco, ho appena lasciato da poco Nico Romito, tre stelle Michelin, ma domani ci sarà un programma molto molto variegato, che poi i nostri ragazzi ci leggeranno. Andiamo a conoscerli un po' meglio. Tu? Sono Giuseppe Lopresti, sono proprietario del ristorante aperto da otto mesi, alle porte dei Chianti. Bene. Quindi il Casale, siamo specializzati nel pesce. E dove? Alle porte dei Chianti a Caviglia, un paesino che si chiama Grimoli, specialità pesce. Ecco, specialità pesce sono buffi nel Chianti. Giustamente com'è che ti è venuta questa passione del pesce? Io sono specializzato nel pesce perché sono di origini siciliane, vengo dalla mia famiglia, vengo da origini pescatori, quindi l'ho visto da quando sono piccolino e quindi ho deciso di sponsorizzare questa cosa proprio nel cuore dei Chianti, sponsorizzando anche il prodotto toscano soprattutto. Bene. Allora ti mettiamo già tra le nuove leve di Aspettando il Tg. E tu invece? Mi chiamo Tiziano Fontani, sono un neo-diciottenne che ancora pratica la scuola, sono dell'ISIS Vasari, quasi un metro e novanta. Un metro e novanta, senza il berretto? Senza, senza. Sennò sarebbe troppo. E niente, io pratico più che altro la pasticceria a livello extrascolastico, dove ho conosciuto anche Giuseppe, con cui... Andavate a mangiare in pasticceria? Sono troppo carino. Ha delle lezioni di cioccolato. Da qui praticamente ci siamo conosciuti e ora andremo a fare parte di alcune gare a livello di federazione. Ecco, infatti so che voi siete fra le nuove leve e quindi io vi aspetto al barco, un piatto, studiatemi un patto per il Natale di Aspettando il Tg. Va bene? Va bene. Poi passiamo invece a questa ragazza, questa molto carina, che invece viene da Barga. Sì, vengo da Barga, mi chiamo Martina Micheloni, ho 17 anni e frequento il quarto anno. Il quarto anno. Il tuo sogno nel cassetto? Piuttosto che viaggiare, per più o meno scoprire tutti i cibi e degustare. Mica poco. Adesso lui. Io mi chiamo Francesco Mariani, fra poco faccio 18 anni e vengo dalla scuola alberghiera di Viareggio e il mio sogno è di fare il pizzaiolo. Ma pensate quanto è tenero, ma sapete sto ragazzo, voglio andare vicino a lui, perché lui era qui tutto tremante, vedete un Marcantonio così, tira fuori la voce che qui nessuno si mangia, non ho mangiato tuo padre in tanti anni, pensa un po' se voglio mangiare te. Il nostro Mariani, il presidente dell'Unione Cuochi regionale, Toscani, Franco, che abbiamo avuto la scorsa settimana, è il suo papà, Nara di Massarosa, è il luogo e ristorante dove operate tutta la famiglia e quindi io ti auguro di essere bravo e simpatico come tuo padre. Però fai bene a fare il pizzaiolo perché troppi galli in un pollaio non ci stanca. Io vorrei far arrivare anche due figure, uno si chiama Iuri, che stanno nelle retrovie, scusami eh, e l'altro invece è una nostra vecchia conoscenza, potremmo dire. Eccoti qua, Iuri, da dove vieni tu? Io vengo dall'associazione Cuochi Fiorentini, lavoro a Lucca, lavoro all'Hotel Noblesse, 5 Stelle in Lucca e sono a fare compagnia a questi piccoletti che devono crescere un po'. Eh, hai perfettamente ragione. E andiamo a far venire l'altro, guardate un po' che autorevolezza, quanto sono alti, eh? Buonasera a tutti. Noi conosciamo, vero? Sì, siamo di casa, diciamo, e per tirare su questi giovani mettiamo tutto l'impegno. Io sono il presidente della federazione, associazione Cuochi del Valdarno. Insomma, noi siamo molto amici di tutti i cuochi, ma ci fa tanta tenerezza quando da piccoli giovani li conosciamo, li incontriamo nelle scuole alberghiere e dopo qualche anno li troviamo in giro per il mondo, ritornano. Un esempio, cito sempre per tutti, Antonio De Jeso delle Cerche di New York, ma potrei dirne tanti, tanti altri. E veramente mi si allarga proprio il cuore, perché in poco tempo hanno fatto veramente loro dei passi da gigante. Però prima di parlare della Leopolda, di voler mandare tutti alla Leopolda, è vero che ci sarà un corteo di tutti i cuochi con berretti meravigliosi, con le chiarine del comune che partirà mercoledì? Sì, questo mercoledì mattina faremo una cosa eccezionale per noi, una grande corteo dal Battistero, saremo preceduti dalle chiarine e tutti noi chiaramente in alta uniforme, perché ci contraddistingue la nostra uniforme. Arriveremo a Palazzo Vecchio e al Salone dei Cinquecento, sarà data lettura del documento etico Cuoco.tec, che è stato steso da vari blogger, accademici, chef alla Leopolda in questi tre giorni. Quindi un bellissimo momento, chi volesse intercettare questo percorso, ma anche venire in Palazzo Vecchio, ci sarà questo dibattito che avrà circa la durata di un'ora, proprio per trarre le conclusioni. Mi sembra che già un po' le abbiamo dette, cuochi meno televisivi, più veri, con una preparazione che va dalle loro famiglie di base, perché comunque è importante, attraverso poi la scuola, attraverso le loro esperienze, va poi a premiarli. Va bene? Allora, voi state pure qui, iniziamo con i nostri due. Che mi fate? Le ho messe alla prova, gli ho dato un po' di elementi e gli ho detto fate voi. Andremo a fare un risotto con melanzane e sfumata al latte. È una cosa molto particolare che non si vede quotidianamente. Quindi andiamo a mettere in una padella già molto calda per non bruciare l'olio, perché si sa che hanno un punto di fumo e quindi possono nuocere gravemente alla salute. Bravo, qual è il punto di fumo dell'olio? Chi me lo sa dire? Dipende da quale tipologia di olio abbiamo. Bravissimo, già mai risposto. L'arachidi. L'arachidi è uno di quelli che ha un punto di fumo maggiore, infatti andiamo sui circa a 230 gradi. Olio d'oliva. Olio d'oliva sui 170-180, però ha la fortuna di essere termoresistente. Quindi cosa andremo a fare ora? Datemi una medagliona e la devo dare. Andiamo a far tostare il riso, che per sentire quando è veramente ben tostato deve essere preso in mano e deve scottare. Naturalmente sarà una cosa di un attimo che non farà male, però darà quella sensazione di calore. E allora sapremo che è veramente fatto. Bene, scusate. Senti, scusami, ma senza essere così, diciamo, drammatici nel prendere il riso, è vero che tante volte l'aspetto del riso, cioè il chicco che brilla, no? Leggermente trasparente, è quello che comunque ti dà questa indicazione? Sì, naturalmente quando portiamo il riso a cottura tende a diventare chiaro. Bene. Adesso andiamo a interrogare la bella. Dove è andata? Diamo il microfono. Sul riso, tu dovessi fare un risotto per casa, fra i vari tipi di risotti che ci sono in Italia, non la marca, ma che tipologia proprio di riso e che differenze ci sono tra un riso, Carnaroli, che so, un vialone nano, eh? Lei non parla senza l'avvocato, io l'avverto perché ha paura. Dai, vieni qua accanto a me. Dimmi. Che ti dice il riso, eh? Più che altro da la produzione, da dove viene, per vedere più o meno tutto il percorso che fa prima di arrivare sulla tavola. Eh vabbè, dimmi il percorso, non lo so neanche io fra un po'. Bene. Eh... Boh. Ora non iniziamo un chechino di riso che viene messo nella risaia, perché se no un po'... No, allora, se devi fare un buon risotto, che tipo di riso, se no mi risponda qualcuno, che tipo di riso scegli? Prego. Allora... Dice, io non mi piace il riso, io me lo sento. Ho già il microfono. Ehm... Niente, da quando viene prodotto esistono varie tipologie di riso, come ben si sa, Carnaroli e vialone nano sono considerate le migliori tipologie di riso per risotti, perché hanno una naturalezza e una finezza maggiore degli altri. Infatti Carnaroli è il re dei risi. Oggigiorno esistono anche le nuove tipologie, come il parboiled, che però... E che mi dici del parboiled? Ah, sono buoni per la cottura, cioè non perdono mai totalmente di cottura, non vanno oltre, quindi non scuociono e rimangono sempre leggermente al dente. Però non riesce a entrare, vero, dentro il sapore dell'ingrediente che abbiamo messo. Non si mescola, se possiamo dire così, bene con il companatico a cui andiamo ad aggiungerlo. E' perfettamente utilizzato nella grande industria, nella grande distribuzione, perché naturalmente... È pratico, vai, diciamo la verità. ...molto più pratico ed è... sì, è migliore in quel caso da utilizzare. Però a livello di ristorante, se si parla di ristorante gourmet, quindi di alta qualità, andremo sempre a utilizzare un Carnaroli, un Bialonanà. Dato abbiamo anche qui in Maremma una grandissima produzione, che è veramente ottima. Ah, è come si allarga il cuore nel sentire dire questo. Bravo! Grazie. Ha la rimedaglia, va bene. Ma la do anche a lei, eh. Sì, sì. Lei, perché non ti piace il riso? Sì. Dov'è il microfono? Dov'è? Eccolo. Sì, è un ottimo alimento, ha una base biologica e il nostro fabbisogno, e anche per i ciliaci. Infatti, presto approfondirò meglio l'argomento, appena gli studi me lo permetteranno. Quindi sei molto interessata a questa sorta di intolleranza? Sì, perché ultimamente molte più persone al mondo iniziano a essere ciliaci. Quindi intollerante al glutine. Sì, è meglio essere preparati a queste venienze per il bene del cliente. Brava, per la salute anche, è vero. Senti, questo riso che... Sì, che a questo punto sono quasi sicuro sia tostato anche senza sentirlo. Andiamo a sfumarlo con del latte, che è una cosa molto particolare. Ma lo sai che io metto sempre il latte nel riso? A parte il riso al latte, che è buonissimo, lo fanno in Sud America, ma lo fanno anche se ci metti il baccello di vaniglia. È una delizia per... Alla fine sì, diventa un companatico al dolce. Perché la vaniglia di solito è utilizzata nei piatti d'oltre. Un companatico al dolce. Guarda, mi piace. Anche il termine companatico è bello. Ormai è più desueto a sentir dire companatico. Vero, Yuri? Senti, te Yuri, dove sei finito invece? Dove lavori? Io lavoro a Lucca, all'Utel Noblesse. Quello che avevi detto. Esattamente. Ma ti occupi di che cosa? Di cucina tradizionale. Cucina tradizionale lucchese. Quindi la garmugia la fai? Facciamo farro di Garfagnana, facciamo frantoiane, facciamo tutti i piatti che sono un po' più la cucina lucchese, la cucina povera. E che adesso per esempio il farro e la frantoiana sono perfetti, no? Adesso sì. Ecco, dammi la ricetta veloce veloce della frantoiana. È mia personale e privata. Vuoi vendicarti di me, lo so. Ma io invece ve la darò io, la mia personale e non privata. E magari la facciamo qua. Queste sono cattive, c'è da aver paura. Allora, continuiamo con il latte. A questo punto andiamo ad aggiungere delle melanzane, scusate. Prego, prego. Delle melanzane, ma le hai già cotte? Sì, naturalmente precotte a parte, saltate con un po' d'olio. Ma vedo delle gran foglie, che sono? Dentro c'è stato messo degli aromi. Perché naturalmente qui in Toscana ne abusiamo a volte anche troppo. Però fanno parte della nostra tradizione. Ebbè, certo. Adesso lo portiamo a cottura in questo modo. e andremo a servirlo. Quindi è un risotto molto semplice, potremmo dire. Molto semplice. Con cottura nel latte, invece, a differenza di un brodo o di soltanto di acqua. A me piace l'idea del latte, perché il latte comunque aggiunge cremosità. Guardate che meraviglia. Questo è un riso che alla fine, anche come, diciamo, elementi nutrizionali, direi che è completo, no? Sì. Cioè, hai ripensato sulla ricetta della Garmugia? Della Frantoiana? Via, ci ripensiamo? Via, ripensiamo alla Frantoiana. Vabbè, forse dopo la pubblicità. Va bene. Allora, dopo la pubblicità vedremo la Frantoiana di Yuri. Come potremmo farcela a casa? Pubblicità. Come potremmo farcela a casa?